La storia continua Dakota Johnson e Cherise Martin, fuga d'amore a Parigi, la storia continua Dakota Johnson e Cherise Martin insieme a Parigi, i due stanno insieme. Continua a gonfia vele la storia d'amore tra Dakota Johnson e Cherise Martin. Le voci sulla loro presunta relazione sono iniziate ad ottobre e poco dopo si è capito che non si trattava di una semplice avventura. Ieri martedì 19 dicembre 2017 la coppia è stata vista all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Dopo aver trascorso una romantica fuga d'amore nella bellissima città. A confermare la notizia è stato il sito mirror.co.uk. A quanto pari due hanno cercato di passare inosservati mentre salivano sullo stesso veicolo. Ma, i fan più attenti li hanno subito notati. La loro frequentazione dura ormai da mesi, di certo stanno prendendo la cosa sul serio. Ad oggi, però, non hanno ancora reso pubblica la loro storia d'amore. . Cherise Martin e Dakota Johnson beccati più volte insieme. . Di recente una fonte ha rivelato in esclusiva al sito Usveikli che l'attrice di 50 sfumature e il cantante dei Coldplay hanno avuto l'opportunità di conoscersi bene continuando ad uscire insieme ed ora sono sempre più uniti. . Stando alla fonte Cherise manda addirittura le sue canzoni a Dakota per un suo parere. Ciò lascia intendere che la relazione tra i due è molto seria. Cherise Martin e Dakota Johnson a ottobre erano stati visti a Cina insieme a Los Angeles. . Hanno anche partecipato ad un concerto di Nick Grave a Tel Aviv, in Israele. .